DG Photo Art, it's media, it's art. Vincenzo Moccia Modernità, ora io sapevo che non è come un'attura, forse perché sono piatta e si mette in scuola. Sono pure canzanella, perciò mi mette d'acqua, però sono troppo secco e non mi manca in pacca. Mi faccio dire se non ho l'ultimo figlio. Tra l'ultimo figlio arrivo in un cagliaggio festeggiato, ero 18 anni, non so cosa faccio. Ho rinvito l'amico, ma non ci danno assai, perché ho pensato a fare questi uomini. Mi mette pure il culo e mi volessi fare, i soldi non ci stanno, non c'è l'impiglione. Però all'intensato ho fatto una sbroglia, perché arriva papà e mi dice con orgoglio. Ormai è arrivato l'ora, siete belli papà, mi dice 8 anni e 2, che non ci arriva là? Ho visto un orologio, una niente che è brillante, una polizia di visore, qualche diamante. C'è chi che mi ha detto, papà, se io vuoi fare buono, fammi un bel segno di 10 milioni. E così me le faccio con il culo e pure il culo. Sicuramente la roba ci sta con qualche città, che vanno per me ricerci che mi vuoi portare il culo. Perché se è innamorato, il culo è pure il culo. Ho sospetto, solo perché tu mi hai trovato con Pasquale un po' niente, stai tutto intussocato e mi viene un sospetto. Ma io le c'erano si è cornute, ma le prove quale sono. Io mi sono sospetto di mare e Pasquale è stato buono. Mi ha stringuto fortemente per farmi ricercare, mi ha spuntato il cipetto e mi ha fatto poi sdraiare. Dappertutto mi ha toccato, per me ne ha più calore, con la bocca mi ha basato, mi ha fatto congandore. Piano piano mi ha spugliato, con questo cavo ragazzo suro, quando poi si è fannato, stai fresco tutto a noi. E mi sono sospetto di buono, mi è tornato il buon umore. Piano piano mi ha dato il mio cantore. Ma allora mi ha passato, non si deve più non male. Ed il merito va tutto al buon cuore di Pasquale. E perciò, marito mio, non ti stai preoccupando. Caso mai mi sembra male, se Pasquale sei un baccato. Perciò, marito mio, non ti stai preoccupando. Non ti stai preoccupando, non ti stai preoccupando. Ecco. Grazie a tutti.